Ciao ragazzi video veloce per avvisarvi che stasera sarò in live dalle 8 e mezza alle 10 e giocherò a minecraft e fortnite insieme a voi quindi ragazzi non mancate perché mi è arrivata la fibra e potrò fare le live su tutti i giochi belli tra cui anche minecraft e quindi ragazzi posso giocare con voi live mi raccomando venite vi aspetto se venite vincerete un biscotto ci vediamo stasera in live sul canale dalle 8 e mezza alle 10 e ciao